buongiorno buongiorno oggi dobbiamo solo rompere l'involucro di due frutte secche una del nocciole e l'altra delle noci guardate un po questa è la mia lavanda che ho messo anche a seccare un po e poi ne metteremo dentro all'armadio nei cassetti per dare una certa profumazione ok queste sono le noci e queste sono le nocciole ne abbiamo già rotte qualcuna sono molto buone bellissime e li ho proprio qui fuori alla all'abitazione ci sono 6 7 alberi è un tipo di nocciola un po diverso da quello normale che hanno l'involucro più più fine questo qua è molto più doppio rispetto a quello vedere è comunque è molto buono sostanzioso fa molto bene ok ecco nel mio martello poi la bisognerebbe tenerlo perché naturalmente scappa ciao niente devo per forza vediamo qua sono molto dure come come in volo vediamo 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 finalmente eccola qua questo è l'involucro che si è rotto finalmente perché ci vuole un po di forza guardate qua quando ne ho già fatte ok qui invece ho dei noccioli del nelle albicocche e famose albicocche all'interno ci sono dei frutti particolari buoni ma naturalmente sono amari e fanno molto bene per i tumori e tante altre cose ok ed eccole qua le aperte tutte se ne andremo appunto a depositare in un piattino e tutti i giorni la mattina prima di fare colazione 3 4 bisogna mangiarle fanno molto bene abbiamo fatto un bel piattino di noccioline buono caso mai facciamo metà e metà prima li mangiamo così e l'altra metà facciamo crema ok spero che mi sia piaciuto al prossimo video ciao ciao